Incredibile, c'è stato un aereo, pensate, una cosa incredibile qua, una roba quasi da paura, un aereo che è venuto a fare un atterraggio dell'Agenza, l'ha detto qui al vicino, l'aeroporto di Malpesa, non è tanto vicino, però c'è stato un problema tecnico, hanno messo il canale che non tolgava più su, hanno pensato di atterrare, per fortuna, lecco qua che non è successo niente, quindi meno male, però su questo aereo, ragazzi, c'era una compagnia teatrale, pensate, che dall'Unibus di Parigi volava a Roma, e allora questa compagnia teatrale ci ha visto la diritta a Facebook e ha pensato di venire qua, ragazzi, qua, a fronte dei partitori, queste fantastiche gambe francesi, e poi abbiamo delle dalle francesi, ragazzi, atterrati in emergenza, a portano con i partitori, provincia di Piacenza, guardate che meraviglia, allora questa è il corso bianco e le gambe di me, mi raccomando a France, la Parigi, la Parigi, Guardate che meraviglia queste trame francesi ragazzi Ragazzi se sono trame francesi le vorrei qua venite qua ragazzi sono molto belle ragazzi Bonsoir madame che lei potrerò? Bonsoir Oh bon de monde che lei potrerò? Caterina Caterina da Parigi E bu madame che lei potrerò? Manuela Manuela da Parigi Ragazzi ma datemi un suggerimento Cos'è che si parla a Parigi amori? Russi? Dicono in coro? Caccare E allora signori che sia caccare Porta Porta signori Caccare Che meraviglia Nuestra ballerina Hey! Hey! Caccare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti